Continua il percorso finalizzato alla creazione di sinergie per Vivi Cilento, questa è la volta di un importante accordo di collaborazione con la Fondazione Mida Musei Integrati dell'Ambiente che gestisce le grotte di Pertosa e Oletta. Le grotte di Pertosa e Oletta sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, ma ancora più interessante sapere che sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al secondo millennio a.C. Le visite alle grotte attrezzate con percorsi segnati e di facile percorrenza sono illuminate da un impianto di ultima generazione e tutto ciò trasforma l'esperienza in una piacevole avventura. Una delle esperienze di maggiore emozione è di certo la navigazione del fiume, il quale offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca, immergendosi in un silenzio magico interrotto soltanto dal fragore degli scorci della cascata sotterranea. Le grotte, situate nel massiccio dei Monti Alburni, sono uno dei geociti focali del Geoparco Cilento e rappresentano uno dei maggiori attrattori turistici naturali dell'area Parco del Cilento. Il protocollo d'intesa tra la Fondazione Mida e Vivi Cilento nasce dalla condivisione di alcuni concetti e tra essi quello secondo cui il comparto del turismo ricopre una notevole importanza nel quadro delle politiche di sviluppo economico dell'intero territorio e assume una valenza strategica nella costruzione di un sistema capace di rafforzare la competitività e la capacità attrattiva dell'economia locale per garantire la conservazione e consentire la corretta fruizione delle risorse culturali, storiche e naturalistiche, oltre che la valorizzazione di tutto anche attraverso progetti di collaborazione e partnership come quello appena siglato. Tra le cose più interessanti dell'accordo vi è sicuramente la previsione della possibilità per i residenti di Agropoli di poter accedere alle grotte di Pertosa o Letta con uno sconto del 50%, presentando la carta d'identità e il coupon che Vivi Cilento consegnerà presso il proprio infopoint situato all'uscita della stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate.